Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un volo partito da Nerviano, in provincia di Milano, per far scalo prima a Foggia e infine atterrare a Roma, dove lo stava aspettando la maglia numero 8, bianco celeste. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con le ali invisibili, buono, sorridente, generoso. Un vero angelo che custodiva e proteggeva la Lazio. Quando il maestro Tommaso Maestrelli aveva dei problemi nella squadra, si affidava a lui, si affidava alla sua saggezza, alla sua serenità e come d'incanto la Lazio ritrovava quella magia che l'ha portata ad essere leggendaria. Quello è il secondo tempo di Lazio Verona nell'aprile del 1974. Entrò di fatto nella leggenda e nella storia della Lazio. Quando andavamo sotto in quel modo, andavamo nelle spogliatoi e l'atmosfera diventava incandescente, proprio per le forti personalità che c'erano all'interno della squadra. questo Maestrelli lo intuì e ci rimandò subito in campo. Infatti, loro che noi entrammo in campo 12-13 minuti prima dell'inizio, della fine, e noi ci schierammo in campo, ognuno nella sua posizione, con la gente che all'inizio rimase in credula, poi capì e cominciò a incitarci. Luciano venne vicino a me e mi disse è fatta, ce la facciamo. Io lo guardai così e dicevo, ma cosa te lo fa pensare? Ce la facciamo noi due, mi disse. Quel Lazio-Verona del 14 aprile 1974 si concluse 4-2 per la Lazio e la squadra bianco-celeste continuò la sua corsa verso la conquista del suo primo scudetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E come per tutti gli angeli, è ritornato là sotto, da dove era partito. E lo ha fatto d'improvviso, senza spiegarti, senza avvisarti. Nella maniera più crudele, più cinica, più improvvisa. Ciao Cecco, ciao Luciano, Angelo che sei sceso sulla terra e sei venuto alla Lazio. E proprio allo scadere del tempo, beffa il Milan con una rete a fil di vantaggio. E c'è... E c'è... E c'è... Stai a stai a way to heaven